Ramino sta seguendo la partita Inghilterra Tunisia, adesso tira lui la punizione attenzione Ramino va in porta è in piedi, è in piedi si è dietro al portiere vediamo se fa gol Ramino attenzione attenzione Ramino c'è la punizione Ramino, guarda fa gol guarda, guarda, attenzione, ho sentito la fisco dell'acquisto si è messo in barriera Ramino no, niente, andate via grazie a tutti